Ora stai zitto perchè ti risiglia Tu questa vita l'avevi rifattete? Si Però la vita non ci è passata 10 anni Pronto vi ricordate Qui l'ha mai fatta questa qui? No Questa qui che scende giù qui No A destra Non questa qui Questa di sotto Questa di sotto va a Benabio A Benabio scende giù Bani e Luca E' molto casa Basciana E l'ha fatta a chi resta? Se no va al Prato Fiorito L'abbia sta fuori tutto il giorno Dal Prato Fiorito si va a ciocco E a ciocco si torna a casa Siamo andati con il Bernardino tante volte Dovamo? Passiamo a tira alle 9 e torna alle 6 Ma i fermi possono venire? Eh? I fermi possono venire? Quelli che fanno fia No E' facile? E' facile? E' difficile? E' facile o' difficile? E' facile o' difficile? Tu mi dici Guarda questo qui non lo voglio fare E' facile si trova di un po' Eh? Adesso si può le fare Vai E' facile o' difficile È molto bene Comprendere Cominciamo In E Dovamo location Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.